Proviamo finalmente insieme i nuovi personaggi del diciassettesimo DLC di Dragon Ball Xenoverse 2. Andremo a provare oggi Broly, con restrizioni, che è furioso da come notate. Abbiamo poi l'Androide numero 18 da Dragon Ball Super, che tra l'altro, se ricordate, faceva parte anche delle votazioni di un po' di tempo fa. E poi abbiamo Videl da Dragon Ball Super. Ecco, spero che lei mi stupisca, altrimenti potrebbe essere un personaggio sprecato per questo DLC. È il vostro momento di lasciare un mi piace, iscrivetevi. Dovete attivare la campanella delle notifiche ora, perché vi ricordo che uscirà Spark in Zero verso fine anno e io ci farò la serie. Andremo a giocare insieme di tutto e di più in quel gioco, quindi mi raccomando, restate aggiornati e attivate sta campanella. Allora, eccola qua, bella, pronta, Videl, il modello nel compresso... Oh, che? Scomparso? Ma che? Ma scom... perché scompare? Ma questa è la prima volta che mi succede una roba del genere. Cioè, quando fai lo zoom così tanto scompare. Ma succede pure con Broly. Ma non mi dire che è una cacata aggiunta dal nuovo... No! Pensavo era una roba aggiunta col nuovo aggiornamento che, tipo, se ti avvicinavi troppo scompariva. Ma è proprio Videl che c'è sto problema. Sviluppatori, ho sgamato un bug di Xenoverse 2 così, senza nemmeno volerlo. A parte questo, ragazzi, il modello è fatto benino. Andiamo subito a vedere quelle che sono le combo leggere. Attenzione! Allora, combo leggere non male. Se devo essere sincero, mi ha stupito. Vedete? È bella, tranquilla, carina. Comunque fa una mossa un po' alla Gogeta. Io non so se voi ve la ricordate, ma non so se acchiappa il momento giusto. Ecco, questo movimento qua l'ho visto più o meno simile già in Gogeta. È un movimento che io ho già visto in passato, appunto. Vediamo colpi pesanti. Uè, brevissimi. Però, attenzione, si attiva il boost di statistiche. Va sempre più veloce questo sbrilluccichio blu per intendere che sta per finire. Però sta durando ancora un botto. Ma in realtà dura per tutta la partita. Pensavo durasse di meno. Mi sta già stupendo più del dovuto, eh. Vediamo un attimo pure la presa prima... Ma che è questa roba? Prima che me ne dimentichi, si può concatenare sicuramente con qualcosa che vediamo dopo. Allora, sta per finire il boost di statistiche. Bene, vediamo un po' di attacchi. Faccio pesante, leggero, pesante, leggero. Attenzione perché vedo roba molto interessante. Ragazzi, ma Videl sta preparando delle sorprese. Cioè, si sta mostrando con delle sorprese che non mi immaginavo. Questo è un altro boost di statistiche. Provo a fare triangolo, triangolo, triangolo. Provo un po' di leggeri. Vabbè, me li combina in questo modo simpatico, senza variazioni. Poi faccio uno, due, tre. E conclude così, con questo ceffone che butta a terra Broly in una maniera assurda. Tra l'altro stiamo pure replicando il secondo film dedicato a Broly, no? In cui, comunque, Videl lo incontra Broly stesso. Uno, due, tre, quattro, cinque. Facciamo così, va. E così cambia, c'è il boost di statistiche. Vabbè, in ogni caso, voglio vedere un attimo gli stamina break. Entrambi, per Videl, ce li vedo molto bene. Vediamo un attimo cosa abbiamo qua. Combo del gabbiano. Ma c'è Pa Videl. Molto interessante. Prova a premere più volte. No, la con... Ma che fa? La continua. Io, ragazzi, non posso urlare ancora perché da poco ho recuperato la voce. Però, vedete, se premo più volte, continua la combo. Consuma due tacche di aura. Ma guarda che fa un bel po' di danno. Colpo della rondine. Ah, questa... Ma mi pare tipo un'evasiva. Mi sembra un'evasiva. Se premo più volte... Ma... Ma questa Videl è matta. Poi abbiamo Cigno Ardente. Questo è il colpo semplice. Se premo più volte... No, se premo più volte non fa nulla. Se tengo premuto lo carica. Ragazzi, Videl sta presentando delle cose che non mi aspettavo. E poi c'è la carica massima. Ci sta. Adesso. Giravolta alta tensione. Vedete? Non c'è nessuna... Ok, non c'è l'onda energetica massima potenza. Qua potevo temere. Però lei in realtà non ce la poteva avere questa. Perché semplicemente è un colpo di energia troppo forte per lei. Abbiamo la combinazione della giustizia. Ma questa io ce l'ho molto presente. Ma aspetta un attimo. Ricordatemi un po' chi ce l'ha. Se io provo a premere più volte me la estende. Perché io ormai devo fare questi test con questi personaggi. In realtà no. Vediamo la foto della giustizia. Premo una sola volta. E parte con questo colpo che insegue l'avversario. Ma questo rallenti assurdo? Molto bello. Devo dire la verità ragazzi. Videl mi ha stupito. Ero già pronto a lamentarmi di lei. Non è un personaggio assurdo di quelli pazzeschi. Però mi ha stupito perché sai forse ero partito con piccole aspettative per lei. E invece non male. Sto provando a premere più volte. Adesso sempre con un quadrato. No. I colpi quelli supremi sono questi. Però Videl ragazzi secondo me ha provata. Ovviamente ha provata per essere sempre Videl. E attenzione. Però qua abbiamo lei che è partita con le mani in tasca. Bella tranquilla. Voglio vedere un attimino i suoi colpi leggeri. Allora mi auguro che sia diversa e già mi sembra molto diversa dalla CD18 già presente nel gioco. Perché quando ci sono i nuovi DLC ti mettono lo stesso personaggio con costumi diversi. C'è sempre il rischio che riprenda troppo dal personaggio originale. Cosa che non mi sembra stia succedendo. Uh. Attenzione. Questo è un movimento un attimino particolare. Moci18 quella originale non la provo da parecchio. Mi auguro non ci siano troppe similitudini con quella vecchia. Però non mi pare. Allora combo leggeri e pesanti. Un po' troppo tranquille per i miei gusti. Avrei usato un po' di più. Vediamo. Pesante. Leggero. Pesante. Leggero. Pesante. E si conclude in una maniera molto interessante. Un colpo di energia. Vedi. Molto interessante. E poi la puoi concludere anche così che la lanci. Molto simpatico. Uno, due, tre leggeri. E poi vado di pesanti. Ok. Lo lancia via in questo modo. E poi vado. Uno, due, tre, quattro, cinque. Credo di essere arrivato a cinque. E la conclude con questa dinamica così. Ok. Cioè Videl da questo punto di vista di moveset mi è piaciuta di più. Proviamo gli stamina break. Molto semplici. Forse fin troppo, eh. Eh, per ora il C18 sta lasciando un po' a desiderare. Poi io parlo da un punto di vista più estetico, di novità, di combinazioni. Poi magari, oh, in competitivo è la migliore, per dire. Chi lo sa. Sono curioso di vedere adesso la danza letale. Eh, ma io questa la conosco già. Questa proviene dall'altra C18. Peccato, peccato. Qua abbiamo il miraggio siderale. Ok, le compare alle spalle e fa un Kienzan. Provo invece questa volta a premere più volte. Vediamo se cambia. Lancia più Kienzan. La risposta è no. Mi tengo un po' più distante. Ah, si avvicina di parecchio. Però pure se tengo premuto non cambia. Ecco, io devo fare tutti questi test per capire tutte le variazioni. Colpo di precisione variabile. Questo praticamente è un po' il colpo che fa anche Freezer col suo dito. Ma no, in realtà no. Provo a premere più volte. Non fa nulla. Tengo premuto. Teletrasporto e doppio colpo. Io non so se voi questo colpo lo riconoscete. Questo colpo qui, con questo movimento, vedete che colpisce verso il basso, mi ricorda tantissimo qualcosa legato al futuro di Trunks e Angoran del futuro. Lo riconoscete? Il colpo, molto simile almeno, che fa insieme al C-17 per uccidere praticamente Gohan del futuro. Non è proprio quello, però un po' lo richiama. Ecco, citazione che credo di aver colto e che mi piace. Proiettile rotante. Assolutamente nulla di che questa evasiva, secondo me. E poi vediamo finalmente le Supreme. Ci siamo. Abbiamo il doppio Kienzan. Questo veramente banalotto, eh. Non li carica. Mi lascia un po' a desiderare. I Kienzan poi si distruggono sulle spalle dell'avversario. Proiettile pendolo. Che sta succedendo? Ma che succede? Ok, questo è interessante invece. Questo è molto carino. Perché lanci il colpo. Torna indietro. Lo rilancia molto più forte avendolo caricato tipo il doppio. Voglio capire se io premo più volte questo pendolo. Continua per più volte? No, è sprecato. Doveva assolutamente fare così. Se tengo premuto... Vediamo... Ah, ecco. Guardate, ve l'avevo detto. Perché doveva assolutamente essere così. Cioè, mi fa il pendolo che va avanti e indietro e poi non me lo fai caricare più volte. Molto bello. Questa Suprema mi piace. Proiettile pendolo. Bello, bello. Interessante. Noto però che fa più danni ad ogni colpo. Ogni qualvolta il colpo va... Ma quanti danni fa? Ma quanto gli ha tolto? Due barre di vita gli ha tolto. Ma assurdo. Ma fammi capire. Vedete, toglie pochissimo. Mano a mano che fa il colpo del pendolo, gli ha tolto una barra intera e così un'altra barra assurdo. C18, ragazzi. Mi ha stupito. Ma solo un po', sai, costa Suprema. Ma per il resto non mi ha fatto impazzire. E arriva finalmente il momento di vedere Broly. Questa è la sua entrata. Molto calmo, molto tranquillo. Chiaramente rispecchia la versione tranquilla di Broly. Il modello forse è uno dei migliori di Xenoverse 2, perché guardate proprio com'è fatto. Ma non so se è perché lo sto vedendo sulla versione PS5 di Xenoverse 2, ma mi pare abbia proprio uno shading, ovvero una grafica innovativa. Cioè, pure i capelli. Questo Xenoverse 2 è tendente un po' a Xenoverse 3 con sto Broly. Cioè, è veramente assurdo. Fatto proprio in una maniera impeccabile. Almeno il modello. Ma vediamo un attimo che hanno combinato. Questo è il suo movimento. Questo è il suo volo, ovviamente, con la sua aura caratteristica verde. È molto bello che si arrabbia quando vola. Eh, ragazzi, ci siamo. Colpi leggeri. Eccolo qua. Attenzione! Boom! Ancora! Eh, raga, non posso urlare, però molto carino che fa sta roba che praticamente lo spacca. Bam! Boom! Boom! Cioè, quindi, nonostante non stia nelle sue condizioni, come dire, quelle furiose in modalità Berserker, comunque è bello arrabbiato. Vediamo un po' gli attacchi pesanti. Quindi, attenzione, teletrasporto, colpo verso il basso e richiamo un po' qualcosa del Broly, quello già presente nel gioco, eh. Triangolo, quadrato, triangolo, quadrato, triangolo. E quindi si conclude in questo modo. Già questo è molto interessante. Vedete? Perché fa questa roba con tanti teletrasporti, lo insegue ovunque e poi lo lancia via. Probabilmente si potrà concatenare dopo qualche guscio, esplosivo o roba così. Uno, due, tre leggeri e poi pesanti. Lo lancia così con praticamente due mani. Uno, due, tre, quattro, cinque. Cambia! E cambia in una maniera molto interessante. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Triangolo. Triangolo e cambia ancora! Ma c'ha più variazioni lui. Magari anche le altre due ce l'avevano. Perché poi non ho provato, mi sa. Provo mo' triangolo e lo fa! Wow, ragazzi! Sì, quindi se premi tipo sei, sette volte quadrato e poi triangolo cambia ancora la combo. E mo' è arrivato il momento di vedere. Stamina break, proprio una spallata. Boom! E il pugno verso il basso. Molto interessante. Vediamo la presa. Lo scaraventa verso l'alto pugno e lo lancia via. Move set approvato per me. E mo' è arrivato il momento di vedere queste. Ammasso colossale. Questa è una sorta di guscio esplosivo, quello tipico. Ah, è a grappolo. Quindi lo lancio e fa sta roba. Se io premo più volte, non si estende. Va bene, pensavo lanciasse più grappoli. Tengo premuto, non lo carica. Ecco, qua avrei usato un po' e l'avrei fatto caricare. Secondo me se lo meritava. Carica gigante. Questa è quella già presente, forse, nel gioco. Eh, vedi, la puoi caricare. Con broli. Ma questo gli rompe pure il vigore, tutto regolare. Questo mi pare ce l'ha il broli, quello di super. Non mi vorrei sbagliare. E poi abbiamo la bomba obliterante. Quando fai questa cambia pure la telecamera. Vedi, si avvicina. Se premo più volte... Attenzione, se premo più volte cambia. Credo lanci via il nemico con questo colpo di energia che allontana ulteriormente l'avversario. Interessante. Non mi pare faccia troppi danni. Tengo premuto, non fa nulla. Un po' un peccato. Ma questa è un'altra carica. Furia crescente. C'ha la carica diversa. Ma non è disponibile per i patroller. Vedete? Fa questa roba proprio da posa di quando lui è sul lago e si carica. Bellissimo. Ma spettacolare. E poi guarda verso l'alto proprio come... Ma... Bellissimi questi richiami. Li apprezzo un botto. Ma l'esplosione gigantesca non la posso fare. Forse la posso fare solo quando si trasforma. Meteora esplosiva. E vabbè questa... La immaginavo doveva essere una roba del genere. Meteorite gigante. Lo provo così. C'ha la faccia un po' da pesce lesso. Così Broly. Devo essere sincero. Questo è il meteorite gigante che già conosciamo. Gli toglie una tacca di vita. E vabbè ragazzi. Stavo per dire... Volevo qualcosa di diverso. Però sto Broly che colpi deve avere? Deve avere questi alla fine. Io mi auguro solo che la trasformazione in Super Saiyan non sia una roba che noi abbiamo già visto. Sai il Super Saiyan normale. Perché per Broly si... Cioè dovrebbero cambiare un po'. Vediamo. Ci siamo. Ma ragazzi ma è una mod. Ma che hanno combinato? Ragazzi. Hanno fatto una roba come le mod. Ah non posso tornare normale. E vabbè faccio così e torno normale. Oggi hanno fatto la roba come le mod. Non ci posso credere. Ma se tipo mentre cammino gli vado contro... Vediamo che fa. Bellissimo. Io non posso urlare per questo. Mi state vedendo tranquillo. Ah gli ha aumentato pure il vigore. Occhio che aumenta il vigore. Guardate che bello. Allora. Devo dire la verità ragazzi. Hanno fatto un lavoro assurdo. Questa volta devo fargli complimenti. Molto bella l'inquadratura. Molto bello che dice Carot! Carotto! Quando si avvicina. Spettacolare. Veramente top. Bellissimo vederlo così. Dai. Devo essere sincero. Quindi... Vederlo combattere in questo modo... Ragazzi. Non ci posso credere. Ragazzi l'hanno fatto. No. Voglio io non ci credo. Questo video durerà probabilmente 20 minuti se non di più. È successo. È successo. Io non so se voi avete capito. Dopo la trasformazione è cambiato il muset. Come le mod. Non ci posso credere. Dopo 8 anni di Xenoverse 2 l'hanno fatto. Mi pare che questa è la prima volta che succede. O forse c'era qualche altro personaggio. Fatemi ricordare un po' voi. Ma mica cambia pure così. Ti prego cambia. No. Gli lancia il colpo energetico. Fra. Ua fra. Non posso urlare. Ragazzi spettacolare. Ma mica cambiano pure gli stamina break. Ti prego. No. Questi no. Vediamo la presa. Vediamo la presa se cambia. La presa no. Pure quella. Vabbè. Adesso non esageriamo. Però ragazzi. Ma vi rendete conto che hanno combinato? L'hanno fatto per davvero. Quindi questi mica cambiano. Questi cambiano. Guai Dulan. Non ci posso credere. È cambiato. È cambiato il colpo. Ammasso Colossale. Gli lancia molti più colpi rispetto a prima. Fammi vedere se tengo premuto. Non fa nulla. Premo più volte. No. Comunque non ci sono altre variazioni. Ma adesso che è trasformato fa... Colpisce un'aria più ampia. Voglio andare a vedere adesso la carica gigante. Fa altro. Vediamo. Forse gli ha fatto solo dei danni in più. Non lo so. Però mi sembra che poi sia quella. Vediamo un po'. La furia crescente. Ma gli hanno cambiato pure Laura. Non ci posso credere. Furia crescente. Si ricarica in maniera piuttosto veloce. L'aura è molto più grossa. Molto più ampia. Quello che sto vedendo ragazzi. Credo sia una roba assurda. Non ho mai visto prima. Veramente pazzesco. E qui abbiamo... Vediamo un po'. Il meteorito è gigante. Vediamo se cambia. Ti prego. Attenzione. Questo non cambia. Poteva cambiare anche solo con un'inquadratura sulla faccia. Guarda, potevano fare una roba simile. Tengo premuto. Vediamo. Se tengo premuto cambia. Purtroppo no. Abbiamo l'esplosione gigantesca. La meteoro esplosiva è sempre quella. Va bene. Esplosione gigantesca. Maronnani. Allora. Non ho tenuto premuto. Ho fatto solo due esplosioni. Premo più volte. È bellissimo. Vai due. È pazzesco. Ok. Fa sempre due. E questo è il mio momento. Esplosione gigantesca. Tengo premuto. Ma come? Ma no. Questa si doveva estendere. Brodis. Non sono riuscito a trovare delle variazioni. Mi sembra strano ragazzi. Vabbè assurdo. In ogni caso il personaggio di per sé. Ma? L'ha spedito via con la carica. Vai due. Lo spedisce via. Ma lo posso fare anche quando è base. Quando è base no. Ragazzi hanno fatto con questo personaggio un lavoro pazzesco. È uno dei personaggi più approvati di Xenoverse 2. Presto proveremo anche i due ultra villain aggiunti in un prossimo video. Lasciate un like e iscrivetevi. Alla prossima.